In Italia si tende a salire sul caro del vincitore molto spesso, anche gli indecisi lo fanno, soprattutto gli indecisi. E quindi quest'onda che è montata un po' in Sardegna, del campo largo, della sinistra che ritrova coesione tra Movimento 5 Stelle e PD, ha un po' galvanizzato gli animi degli elettori di centro-sinistra e un pochino ha galvanizzato coloro che si spostano di elezione in elezione sul caro del vincitore. Quindi non è scontato. È vero che le condizioni sono diverse dalla Sardegna, però c'è un però. Che ci si è resi conto che in Sardegna votare contro il candidato del centro-destra significava votare contro questo governo in qualche modo. E quindi tutti coloro che sono contrari al governo Meloni e sono la maggioranza del paese potrebbero aver voglia di federarsi in queste elezioni più piccole come l'Abruzzo per dare un segnale. E sarebbe un segnale che dopo la Sardegna potrebbe accendere un piccolo allarme a Giorgio Meloni.